...e' stimolato da maggior numero di visitatori. Oggi di fatto Milano è molto visitata da turisti francesi e questo è frutto di vari aspetti. Non ultimo, una cosa molto importante che continuo a raccontare anche perché è stato recentemente prorogato, così come l'avosto, non sia un accordo che alcune in Milano hanno fatto con le ferrovie nazionali francesi. Per cui oggi la proposta delle ferrovie nazionali francesi è costantemente promossa dalle ferrovie nazionali francesi sui loro siti, sugli loro treni e automaticamente questo ha generato un grande aumento di destinabilità della destinazione Milano per i piaggiatori francesi. Analogamente abbiamo a pochissimo concluso un accordo con le ferrovie nazionali svizzere e anche da questo punto di vista credo che registreremo in futuro un forte incremento di turisti e visitatori della Svizzera proprio in virtù di questi accordi che loro hanno fatto soffrendo e la prima volta che vengono fatti da un'autorità locale come un comune con un'autorità nazionale come le specifiche ferrovie. Non so quale sia arricamme con le ferrovie di Leonardo ma se ci ritroviamo al famoso finale di Mancesta per questo mi ricordo tutto il ginecato. Il ginecato è un altro ginecato, il ginecato è un altro compagno che va appunto guidando una nuova produttiva al vapore. Testimoniando un po' i perfili, che ha un film di pure evasione, molto di latenza, però un aspetto secondo me interessante che va un po' messo in relazione con un po' come l'ho ascoltato oggi. E' sì vero che c'è un'attitudine, come si può dire, che è costante a leggere l'esperienza di Leonardo quasi sicuramente come un'esperienza artistica dove c'è evidente che tutto l'aspetto di studio e di attenzione rispetto alla realtà è una scienza molto forte nella sua esperienza quotidiana. ma anche l'avventura di Leonardo, come un corsogno, come un inventore che è messo a discussione, come vediamo anche dalle grandi documentazioni che è stata oggi portata a soltanto di questa tesi, risente anche, risente dicevo invece, della sottovalutazione di quanto Leonardo è stato capace di farsi influenzare da corretti di pensiero, studi, ricerche, progetti che erano a lungo contemporanei e addirittura a lungo molto precedenti. Devo dire che questo aspetto, aspetto, così direi, nonostante evoluzione, nonostante, come è chiaro, grazie in questa discussione. Credo che il 2019 potrebbe essere un punto importante di confronto e di dialogo su questo tema la donna del 50 centino anniversario della morte di Leonardo si svolgerà una serie di iniziative dove ovviamente la nostra città sarà capitale torno ad un ulteriore sviluppo della ricetta e del impatto pubblico attorno a questa vincola. Certo è che c'è una caratteristica che è fondamentale e che non è stata richiamata prima ma a cui io sono molto affezionato ovvero sia il fatto che a Milano Leonardo ha trovato l'ambiente più fertile per lo sviluppo del suo pensiero creativo e come tutti i pensieri creativi era evidentemente fortemente influenzato da altre fonti, da altre sorgenti e da altre esperienze ma anche proprio a Milano ha trovato delle condizioni che secondo me caratterizzano fortemente l'identità di questa città il momento migliore e la situazione più fertile appunto per l'esplosione di un genio creativo e di un pensiero creativo che ha saputo prodursi tanto nella progettazione di macchine militari quanto nella riflessione, per esempio, dello sviluppo urbanistico della città in cui l'apporto di Leonardo è stata fondamentale tanto evidentemente quanto anche nella sua creatività artistica che non dobbiamo mai né rinidicare né disprezzare perché di fatto poi il cenacolo, lo vinciamo, è uno di quei grandi capolavori che costituiscono davvero non soltanto un forte motivo di identità del patrimonio della nostra città ma anche un'opera straordinariamente potente dal punto di vista dell'immaginario che è sempre stata e continuamente è in grado di generare come poteva essere l'ultima cena all'inferio di Leonardo cioè appena Leonardo l'arriva terminato e questo è un complemento interessante e importante alla visita dell'originale e con l'esperienza in realtà virtuale che consente di esplorare la sala dell'ultima cena come poteva essere proprio collegato l'ultima cena chiamo un attimo sul palco Leonardo Milano che ci parlerà e che lui, Leonardo Milano ci parlerà dell'esperienza dell'ultima cena di Vente e di Monsanto Grazie a tutti sono Giuliano Gaia di Leonardo Milano noi siamo attivi da dieci anni nella valorizzazione dei luoghi di leonardesti a Milano in ogni modo per cui utilizziamo sia forme teatrali lavoriamo molto con le aziende organizziamo molto gli arti in building ci troviamo molto bene a collaborare con gli amici di Leonardo Tre con cui collaboriamo ormai da tre anni proprio perché siamo tutti i nerd di Leonardo siamo Leonerd tra di noi e ammiriamo tantissimo tutti gli aspetti di Leonardo e proprio per il tuo cenacolo cosa sta la base dell'esperienza a cenacolo? il tetto se faccio imparo è un magnifico teatro delle emozioni il tuo di Leonardo ogni dettaglio è assolutamente incredibile ma ci siamo chiesti come facciamo veramente a far capire ai visitatori che cos'è? che ne facciamo di vivere l'obiettivo non è quello di farsi un set in costume l'obiettivo è quello veramente di far capire il dramma rappresentato dall'analimo per cui soltanto se che si capisce il sottilissimo rapporto che c'è ad esempio tra le mani di Giuda e le mani di Gesù che sono gli unici che sanno la verità gli unici che sanno ciò che sta per succedere e gli unici che sanno che tradimento si è consumato e poi la reazione a Catea e tutti gli altri che reagiscono a questa bomba stanno tornando di una mina quello che ha appena detto Gesù Cristo è una mina uno di voi vi tradirà in esplosione in questa esplosione si rivela ancora bene l'unico modo per farlo capire effettivamente è proprio questo e è per questo che vi invitiamo adesso che salite in mostra a farlo voi stessi quindi se volete entrare anche voi nel capolavoro di Leonardo e capire anche voi come hanno già fatto migliaia di persone come questo accade e come altre migliaia faranno a partire da dicembre proprio all'interno della mostra Leonardo 3 siete benvenuti quanto sei? Grazie. La donna che le ha create ma ha fatto che impostare delle realizzazioni già inventate da contemporanei, con le sue predecessori. La rimandiamo se vuoi. Sì, sì. State giaccando. Grazie. 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 La meccanica. Questa è la meccanica. Cielo fiubbidato. L'antinibio. Canone musicale. Meccanico. Viti aereo. Giorgio. Guarda le macchine, l'antinibio, è una macchina. Giorgio. Giorgio. E questo Leonardo lo faceva a 3-400 anni. Lo stesso Ligia, che volò nella metà dell'Ottocento, che è il primo uomo a volare, ma sono stati i Fratelli Bright. E' stata. Quindi i Fratelli Bright al 1900 con un radiante che mi ha riconosciuto. Ma prima dei Fratelli Bright, questa è una cosa che racconto sempre, volò otto lilie, in parco delle macchine costruite esattamente come quelle che viviamo in mostra. Anche oggi lì è stato finito di analizzare il lilie. Il mare che parla di più gruppo. Il fatto è un film. Il stato di Ianni. Il stato di Ianni. Il stato di Ianni. C'è quello che aveva. Gli alti glissati, prendiamo tutta la ruota. Già tornato. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Tutto, attra. Tutto, tutti. Tutto, tutti. Tutto, attra. Tutto, attra. Tutto, attra. Tutto, attra. Tutto. Alla prossima. Tutto, abbiamo preso. Il tamburo elastico, l'argento, l'ipotesi di ricostruzione, l'ipotesi di ricostruzione, l'ipotesi di ricostruzione, l'ipotesi di ricostruzione, Un po' parlante, però sembra che non sia altro. Si vede, da me le colme di visione infattive delle ocche chiusi, i condotti hanno iniziato a contrasse infattive per mettere i peribri per tra le cose che le proposte sono i grumasi, i fioriti, i lignosi e i ambiettili. ...spiegazioni, posizionamento, perché niente è casuale nell'opera di Leonardo. Qui c'è sempre un narratore di Leonardo Milano che guida sia il posizionamento che la fase di realizzazione e trova che sia posizionato in una maniera non complicata. C'è sempre un gruppo, se volete anche voi, per fare l'esperienza. Allora, prego, comodatevi. Comodatevi, venite avanti, non abbiamo paura. Non si fa male, non morde. Nonostante il mantello vi assiduro che non sono particolarmente bricoloso. Benvenuti. Vi invito appunto a liberarvi di borse, giacche e... Tutto quello non può un attimo essere di attraccio. ... ... ... ... Le persone che sono state già così cortesi da ascoltarmi, alcune delle cose che dico adesso sono naturalmente delle ripetizioni, però non posso che partire naturalmente dall'inizio. Benvenuti in quella che noi, come avete sentito già all'Urban Center, chiamiamo la nostra esperienza cenale. Oltre a essere un nome suggerito dal comparto marketing, è un nome che esprime quello che noi intendiamo fare. All'interno di questo momento del condimento, i partecipanti sono invitati ad entrare all'interno del capolavoro di Leonardo. Qual è lo scopo di tutto questo? Leonardo viene descritto, e lo è stato anche descritto oggi nel corso della conferenza stampa, come il pittore delle emozioni. Il teatro delle emozioni di Leonardo. Queste sono parole che hanno attraversato i secoli. Leonardo viene descritto così niente meno che dal cardinal Federico Borromeo. Se ne trova traccia all'interno delle vite di Vasali. è una cosa quindi che appartiene da sempre al nuovo in cui Leonardo viene raccontato. Noi, proprio partendo da questo principio, proponiamo un approfondimento sull'opera che esprime probabilmente meglio questo lavoro di Leonardo sulle emozioni. Che cosa intendiamo? Leonardo non dipinge mai delle bambole. Quelli di Leonardo sono degli esseri umani, sono degli esseri umani vivi e proprio per questo esprimono le azioni. Oltre allo straordinario lavoro di ricostruzione di Leonardo III, cerchiamo anche un attimo l'attenzione su quello che è l'originale. Leonardo non è il primo artista naturalmente che si cimenta solo uno studio dell'ultima cena, ma Leonardo lo fa a modo suo cambiando molte delle regole consolidate fino a quel momento della storia dell'arte. Sceglie un momento particolare, il momento in cui Gesù sta annunciando ai suoi apostoli che uno di loro è il traditore, uno di loro lo tradirà. Per colpa di uno di loro sarà la sua vita che considera una linea brusca e completamente inaspettata. E quello che si dipana davanti agli occhi di chi osserva è il momento immediatamente successivo, la reazione. Sono dodici uomini, dodici uomini che nel corso degli ultimi tre anni dell'anunità hanno vissuto in simbiosi l'uno con l'altro. E adesso il loro maestro, quello che loro stanno seguendo, in cui loro hanno riposto tutte le loro speranze, gli ha appena annunciato che non sono dodici veramente fratelli, ma uno di loro è il peggior traditore che sia mai esistito sulla faccia della Terra. E Leonardo ci propone il momento in cui reagiscono a questa incredibile liberazione. Sono dodici uomini diversi. Ed essendo dodici uomini diversi reagiscono ognuno in maniera diversa. Leonardo cerca un effetto di realismo che sconfina nel maniagale. Pensate all'ultima volta in cui siete stati a una tavolata con degli amici. Tante persone che parlano, rumore. Che succede normalmente? Quanto più lontano sei dalla persona che sta parlando in quel momento, meno bene la senti. Leonardo cerca la verosimiglianza anche in questo. Allora vedete che le reazioni di quelli che sono immediatamente al suo pianto tendono a essere molto più violente di quelle di coloro che sono all'estremità del tavolo. Qui ci si chiede, è come se ci si chiedesse, ma abbiamo sentito bene? Ma è possibile? Leonardo prende la descrizione degli apostoli dalla Bibbia per quanto gli è possibile e attorno ai loro caratteri costruisce delle reazioni verosimili. Uno dei cuccelli, San Pietro, con l'uomo facile all'ira, quello che staccherà un orecchio al soldato romano con la spada. Pietro scatta, ha già il coltello in mano ed è pronto per colpire. Uomo. Diventeranno santi, diventeranno in vita una grandiosa religione, ma in questo momento sono uomini. Leonardo li dipinge come tali e noi cerchiamo di far vivere l'esperienza cenagolo basandoci su questo principio. Io posso usare tutte le parole più eleganti del mondo per esprimervi questo concetto, ma niente sostituirà mai il tentativo, se scegliete di farlo, di entrare nella pelle di questi uomini ed esprimere queste stesse emozioni. Proprio perché le parole non possono mai sostituire l'esperienza diretta, io direi che la faccio anche finita con questa introduzione verbosa, ve ne do una dimostrazione. Cominciare con bisogno di un Gesù. Io. Ahahah. Giuda è completamente programmata. Giuda quando è mostrato alla destra di Gesù. È sicuramente spostato. Eh sì, eh sì. Dai sì. Qual è il contegno di Giuda? Fateci caso. È lui che è contro Giovanni. C'ha la forza in mano. Giuda ha la forza in mano, esattamente. Con la mano sinistra, prende i denari d'argento. Frutto del tradimento. Mano destra. Mano destra. Scusi Giuda. Scusi. Con la faccia sorpresa. Perfetto. Con la mano sinistra, fa lo stesso movimento che sta facendo Gesù con la destra. Come se afferrasse il pane. Perché questo? Un momento ancora successivo. Quando viene chiesto a Gesù, maestro, dici chi è il traditore, Gesù risponde, è colui che spezza il pane con me. E Giuda si trova doppiamente incastrato. Ma questo Leonardo ce lo fa soltanto in prevedere. Un foglio. Passiamo alla distinzione del nostro compito. Coricione del volo. Questa è, che è un Google. Questa è? Questa è la macchina. Questa è la macchina. Verso una macchina... Questa è la macchina... Questa è la macchina. Questa è la macchina. Qui c'è del volo. Abbiamo visto la mostra con incluse le biciclette volanti. Questa mostra con incluse le biciclette volanti. Iniziamo con incluse le biciclette. Qui c'è il volo. Chi si fa una scena? Si trovi la scena. Si fanno calare la cala. Grazie. E così abbiamo finito. E così abbiamo finito. Andrea Saraino. Andrea Saraino. Andrea Saraino. Marco de Giorno. E questo... E così... La conferenza del mondo di Leonardo. Vi saluto. La mettono qui fisso solo temporaneamente? Di ricordi? Grazie. 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 Questa c'è il caso di Dagi come l'Italia, una delle BF-102 che devono avere 105 litri, trasportare il freno, 107. Ok. E' una prima delizio. La mano corre a due dita. Fille. Ech. 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 Grazie. 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 Grazie.